Abbiamo tre reati su quattro per cui siamo stati assolti, sono stati assolti perché non sussiste il fatto, quindi è particolarmente significativa la motivazione. Rimane in piedi un capo che riguarda il falso del 2016, su cui leggeremo le motivazioni, ma io sono ancora profondamente convinta di aver fatto tutto nell'interesse dell'ente e quindi ricorreremo. Per quanto mi riguarda porterò a termine il mio mandato da sindaca, questo non mi impedisce di continuare e come previsto dal codice elettrico mi autosospendo dal Movimento 5 Stelle. Non mi sembra che sia il tema di oggi.